Dr. Frankenstein Frankenstein Vuol prendermi in giro? No, si pronuncia Frankenstein Allora dice anche Frederick No, Frederick Beh, perché non è Frederick Frankenstein? Non lo è, è Frederick Frankenstein Capisco Tu devi essere Igor No, si pronuncia Igor Ma mi hanno detto che era Igor Beh, avevano torto, non le pare?